In un mondo in cui in valle sembrava tutto poteva convivere, terra, uomo e cielo, in un momento un lampo violento distrugge tutto, tutto e il mio mondo interiore e esterno esplode in mille pezzi, lasciando una sensazione di vuoto, un deserto assoluto. Era terribile, senti che la pelle si strappava, ma non soltanto, io non avevo mangiato quel giorno e la voglia di buttare tutto era costante, eravamo paralizzati in alcuni dei miei compagni, le prendeva la polizia manganellate. La vita è fatta di ombra e di luce, entrambe sono importanti, come è importante come l'ha dipinto Bramante. Mia mamma era così contenta come tutte le ragazze, non vede l'ora di vedere il fidanzato. Aveva chiesto alla nonna se poteva vederlo anche da lontano. La nonna ha detto va bene, passi soltanto avanti la porta del salotto. A un certo punto questi soldati, questi giovani, si accorgono che tutti i loro doni che portavano non valgono proprio niente e li depongono davanti a un bambino. Un bambino forse troppo piccolo per capire, eppure con la sua viva e toccanta presenza rappresenta tutto ciò che conta nella vita, la speranza.